Ero biondo. Sono biondo. Invece però ho una figlia che è rossa di cappelli, una figlia che è biondo di cappelli e una figlia che è bruna. Però io ero biondo. Ho ancora qualche pelo che è biondo. L'abbè sulle braccia, così, i peli biondo. Porti da Marti, grande. E danni un bacione, Luca. Al campo si stia buono. E' bene. Si sfogano ben bene. E' fatto apposte che... Come ti sento il rumore? Adesso che scheda madre hai e che CPU hai... messa. No, perché se hai una CPU un po' troppo vecchia fa un cono di bottiglia della Madonna. Oh, le armi. Perché ci sono le armi qua? Cioè, perché eroga... Fa molto... E' una roba pazzesca la potenza di una serie 3-4. E' una CPU che è... Ti fa un cono di bottiglia della Madonna. Anche se sei talmente biondo, mi sono diventati invisibili. Quindi, anni 7-6. Dalla serie 6. Anche se hai il cappa, ma... Non riesci a... A darti tutto. Pensa a un Ryzen che lo paghi magari qualcosina a me. E' una serie 5 da Ryzen almeno. Perché non giochi con ISO. Ah, guarda, io Samba e gioco con quello che trovo per terra e non ho mai più cambiato il road out. Piacchiero un botte su un nabo della Madonna. Poi qualcuno la portiamo a casa. Poca roba. Già siamo in trenza, no? Ho visto benchmark e non perdo molto in due capo, ok? Piacchiero un po' Piacchiero un po' Piacchiero un po' di restare qua. Beh, io ho un'arma forte adesso, Samba. Qui abbiamo un lancio di equipaggiamento. I COD 110, 120 FPS, 2K, tutto max altro. E' sicuro che su COD fai molti FPS. Dipende anche dal cello che ti collego. Ma tu una connessione mi sembra che ce l'avevi buona. Mi trovo bene anche perché è meta. Ok, poi cambiamo. Samba, hai la build. Cambiamo adesso. Io che cos'ho adesso? L'STB. Eh, lo cambiamo. Mettiamo l'ISO. Ti prepari la build, lo buildiamo e andiamo. Credo che ce l'ho, che è possibile maxare anche il mio. Questo rumore di merda. E dai. Qui, colpi per mitragliatrice leggera. Giù la proviamo. Che dici, Samba? Facciamo? Arriva il nostro attacco con mortaio. Arriva l'attacco con mortaio. Arriva l'attacco con mortaio. Il loro ribasso è distrutto. Il bottone non prende. Al sopra li sento. Oddio. Oh, che va. Stai sparando ai tuoi alleati. Bombardamento alleato in arrivo. Affrettati verso la zona sicura. Sì, sì, beh. 2K. 100 FPS. Sì. Ebbè, con la 1060, anche se aveva 6 giga di RAM, una scheda veramente datata, una scheda che vale a 6-7 anni. Ragazzi, abbiamo la build del... del coso. Bellissimo. Abbiamo la build dell'iso, ragazzi. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Il dubbio vado al bagno? Va bene, segati. Prima caga, poi segati, lavati il culo e poi l'uccello. Sei pronto. Col sapone, non con l'acqua, eh. Col sapone. Ti si lava. Porco. Cazzo, queste medaglie, quelle di merda. Iso. Chiama Iso. Iso Emlock. Allora, abbiamo detto. Calcio, cani, impugnatura, caricatore, spirale, bugger. Allora. Iso, guarda, c'è il corto raggio volato. Ortonaggio, che cazzo è? Dove lo trovo scritto io? Vabbè, andiamo sul calcio. Qua mettiamo una roba che vado io a naso. Questo è sempre il compensatore. Questo tipo. Allora, abbiamo detto. No, Iso 45. Allora, abbiamo detto.